Raffaele, io ti dico ancora di più, rilancio, cioè questi hanno sbagliato addirittura la progettazione e le quote. Infatti hanno chiesto perizie di variante. Abbiamo una struttura lì, diciamo terminata tra virgolette, ma non è così, perché quella dovrebbe essere riabbattuta e rifatta di nuovo capo a capo, che praticamente rispetto a come Lello riusciva è molto utile, è una grande risposta in termini sanitari proprio ad una comunità forte, sicuramente, ma noi abbiamo fatto di più. Noi con le circoscrizioni abbiamo fatto un protocollo di intesa con Regione e Comune per quanto riguarda la struttura vecchia della vecchia casa municipale, perché noi, per quanto riguarda proprio l'ASL, visto che noi pagavamo dei fitti passivi, l'amministrazione pagava dei fitti passivi perché l'ASL occupava dei locali da parte dell'amministrazione, abbiamo concesso all'ASL la vecchia casa municipale, perché c'era stata fatta, c'era stata costruita quella nuova, che è stato fatto un protocollo di intesa per un ventennio da parte di Regione e Comune. la struttura è terminata da quasi due anni, dell'ASL non c'è traccia, allora io chiederò immediatamente la retrocessione per riportare nella vecchia casa municipale, la casa dei cittadini pianuristi, di nuovo al municipio. Chiarissimo. Facciamo adesso un salto dal soccavo pianura all'avvocato a Monte Calvario, mercato Piedino, San Giuseppe e Porto. Sembra uno scioglilingo, ma sono tanti i quartieri. Qui come vanno o come dovrebbero andare le cose? Chirico. Guardi, innanzitutto io credo che noi veniamo da un risultato elettorale di cui se ne è parlato in tutto il mondo, da un entusiasmo della gente che ha voluto manifestare in qualche modo la sua volontà di uscire un attimo fuori dai vecchi schemi, dalle vecchie logiche di partito. E quindi penso che il primo passaggio che noi dobbiamo fare tutti come Presidenti di Municipalità sia quello di tramutare questo entusiasmo in partecipazione, ovvero in senso civico. E già questo sarebbe un grosso passo in avanti nel compiere quello che è appunto la partecipazione dei cittadini, come diceva Caro Tenuto, alle attività politiche. E in questo la Municipalità deve essere caposaldo, deve farsi portafila proprio del coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. Al politico il compito di trovare la sintesi, ma le idee devono essere necessariamente condivise con i cittadini che vivono il proprio territorio. Per quanto riguarda ciò che bisogna fare nella seconda Municipalità, ho detto nel mio primo intervento, parlavo di centro antico. Il centro antico va assolutamente rilanciato, va rilanciato attraverso uno studio di pedonalizzazione serio, bisogna rilanciare il turismo in quelle realtà, bisogna, ho letto da qualche giorno fa in cui si parlava di realizzare dei corridoi di sicurezza per i croceristi, a seguito purtroppo della perdita, della morte di Mendoza. In realtà questa è una grossa sconfitta, noi dobbiamo creare le condizioni affinché ci sia la possibilità di girare nel centro storico con tranquillità. Andiamo nei percorsi dell'esercito, quelli minati, quelli non minati, altrimenti andremo a perdere. Cosa ha prodotto la morte di Mendoza? Un comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica e alla fine c'è un presidio fisso dei vigili urbani, che è l'ultima catena, non inutile, ma l'ultima catena utile per le vicende della sicurezza rispetto a chi in queste città viene a portare soldi, viene a visitare la città più bella del mondo e dovremmo scappellarci e mettergli, diciamo, conto. Aspetta un'altra, tu hai la chiusura, aspetta un'altra, perché poi la Polizia Provinciale, anche loro, stanno facendo in Capoli, ho visto via Marina, incredibile, hanno anche loro la pattuta. Volevo concludere questo ragionamento sul centro storico e sulla sicurezza. Noi come possiamo rendere sicuri i territori? Certo la presenza delle forze dell'ordine è necessaria, certo la videosorveglianza è un deterrente, ma noi dobbiamo rendere gli spazi vivi. Allora io immagino che su Via Benedetto Croce, al posto delle fioriere, ci siano dei tavolini, dove le attività commerciali possano rendere viva una strada e sicura a tutte le ore della giornata. chiaramente cercando di trovare un giusto compromesso tra le attività commerciali, la movida e poi i residenti. Naturalmente questa trasmissione serve per conoscerci, poi vedrete nel corso dell'anno, ci vedremo ancora con trasmissioni specifiche, singolarmente, vedremo con le telecamere, cercheremo di capire che cosa si può fare, che cosa non si può fare, cosa proporremo al sindaco, quindi non ci giochiamo tutte le carte, adesso serve per conoscerci, per verificare. Abbiamo quattro minuti, dobbiamo fare un minuto a testa e poi chiude carotenuto. Sull'idea di realizzare la municipalità, ormai abbiamo capito, scendete in campo, prima esperienza, bisogna far bene. Avete già un'idea di assessorati? Se sì, possiamo dare qualche nome, qualche cosa? No, non ho ancora, o meglio, ho un'idea nella mia mente che sto valutando con gli eletti, ma anche credo che sia a dovere di chi è stato eletto prendere anche in considerazione di quelli che hanno contribuito a correre nelle liste o anche le persone esterne, perché non possiamo, dopo una campagna elettorale, dimenticare. Cosa che invece fa al contrario De Magistris, che viaggia tutto in un'altra direzione, dice no, mi interessa proprio niente di quelle indicazioni dei partiti, io vado avanti con gli uomini miei, con i mezzi miei, e venite chi con le venite via e chi viene non li resta a casa. Questa è l'idea di De Magistris, un'idea dei magistriana. Sentiamo invece Giorgio De Francesco, se ha idea della sua squadra. No, non ne facciamo ancora, abbiamo una rossa di nomi, ci stiamo ragionando anche insieme ai partiti, perché De Magistris sa che sta ragionando insieme ai partiti del centro-sinistra, poi è giusto che farà delle scelte, credo che come diceva Chirico, noi dobbiamo essere attenti al messaggio che i cittadini hanno voluto dare, sia a livello comunale ma anche a livello municipale, c'è voglia di partecipazione, di rinnovamento, di innovazione, e noi anche nella scelta quindi della giunta, della squadra, dovremo tenere presente di questo spirito. Poi considereremo le necessità di tutta la coalizione, questo senz'altro, però faremo scelte precise per rispondere alle esigenze della gente. Senz'altro, la notizia dell'ultima ora, la do ora, ma sarà domani su un giornale, anche dopo domani, il PD non entra in giunta, come aveva annunciato, dice fai tu dei magistri, se scegli gli uomini tuoi, noi guardiamo, ti collaboriamo, siamo al tuo fianco, ma prendi tu le responsabilità, è un'idea giusta della politica. E invece che cosa pensa Lezzi? Ha dei nomi? C'ha già la squadra in testa? Possiamo dire qualcosa? Io negli ultimi giorni a Pianura mi stanno chiamando, invece di Maurizio Lezzi, De Lezzi, perché io condivido pienamente l'ipotesi dei magistris, perché fin quando voglio dire... E tu sei di centro-destra, ricordiamo. Sì, perché se noi parliamo di rinnovamento, parliamo di cambiamento, non me ne vogliano, voglio dire, i miei colleghi di maggioranza, o coloro che sono rimasti fuori, io credo che noi, un segnale, io forse non sono stato fortunato perché sono stato candidato a Presidente e ho vinto, può darsi che forse se stavo dall'altra parte sarei rimasto arrabbiato, ma purtroppo oggi ci troviamo all'anno zero dove dobbiamo ripartire. Quindi ritengo che bisogna sfruttare quelle che sono le migliori risorse della società civile, del mondo, del lavoro, dell'impresa, dei territori, per rilanciare i territori. Un'ultima cosa, le voglio chiedere proprio come cortesia personale, e secondo me condivideranno anche i presidenti delle municipalità. Le municipalità sono sempre soggetti a critiche, diciamo, come l'organo morto, l'organo che non funziona. Io so che lei è una persona sempre presente, con le sue telecamere, diciamo, e riesce a seguire quelle che sono le attività delle municipalità. Lei deve spingere ancora di più, lei ci deve seguire passo passo, perché noi vogliamo dimostrare alla gente che la municipalità, le municipalità, i presidenti di municipalità, sono veramente il cuore che pulsa sui territori e hanno incidenza anche sulla città. Io ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutti i presidenti delle municipalità, ed erano 9 di centrosinistra e 1 di centrotesta, per cui... Non ho mai fatto distinzione, io ho parlato sempre dei cittadini che vogliono e chiedono. Naturalmente ho visto però anche i presidenti in difficoltà, perché all'interno del Consiglio veniva boicottato, perché non veniva nominato questo, non veniva nominato quell'altro, quello a loro, poi gli facciamo bene la fiducia. Ho visto giochi politici sporchissimi, anche a livello municipale, che poi sono persone, voglio dire, della prima politica. Se mi posso rimettere su questo punto... Veloce perché voglio sentire... Sì, già ho detto alle persone del Consiglio e anche chi è fuori che questi ricatti, la 2C2SS, non li accetterà, altrimenti ce ne andiamo a casa. Ecco, il problema è che ce ne andiamo a casa, quello è che poi c'è il ricatto del numero. E invece, le idee vostre? Ma l'idea... Io non ho in mente ancora dei nomi, ma ho un'idea di quella che deve essere la giunta di una municipalità, in particolare della giunta che vorrei io. Quindi persone giovani, persone motivate, persone che hanno delle competenze e soprattutto persone che siano espressioni del territorio. Questo è un punto fondamentale. Io stesso vengo da un'esperienza di 10 anni di consigliere nella circoscrizione e poi nella municipalità. E quindi sono decisamente un'espressione del territorio. e questo è sicuramente un punto di forza che va confermato nell'aggiunta. Sarò tenuto il tuo minuto. Vorrei dare due suggerimenti ai presidenti. Il primo è di far funzionare meglio e ancora di più l'organismo amministrativo che mette in pole position i 10 presidenti. Non sottovalutate quell'elemento. Quello è un elemento distruttore, vivo di amministrazione che può dialogare direttamente con gli assessori e con il sindaco di riferimento e far funzionare questo perché è stato molto depotenziato dai vecchi 10 presidenti. L'altra cosa, vi lancierei una sfida che dovrebbe essere una sfida a voi stessi. Scegliete le donne. Scegliete le donne. Su 10 presidenti municipali ci sono solo due presidenti donne. Barra San Giovanni Ponticelli, Anna Cozzino e Di Sarno Giuliana, Stella San Carlo, Allareno. Proponete una sfida a voi stessi. Il 50% dei quattro mini-assessori municipali fate donne perché questo sì che risulterebbe essere un salto di qualità ed un confronto serio con una differenza di genere che non sta solo sulla carta ma che effettivamente sia da stimolo. Cari amici presidenti, sarete tirati per le giacche da destra, da centro, da sinistra per la formazione di questa giunta. Fatta salva poi questa giunta sarete tirati dalle giacche dai partiti che vi chiederanno perché non si fa questo o perché non si fa quest'altro o al contrario di questo. Andate avanti senza problemi. Siate impopolari, se serve. Non voglio farmi maestro ma ho già vissuto un'esperienza del genere con persone che dicevano sì e poi non si può fare perché è meglio dire che una cosa non si può fare che fingere di poterla fare. Per essere coerenti e sempre ricordatevi che avete un'arma a disposizione che è la televisione che quando servirà a fare denunce e cercare di sganciarvi anche da chi vi dà fastidio basta far arrivare un messaggio noi siamo pronti perché l'interesse di tutti i cittadini al di là del colore politico di cui ripeto a me personalmente non mi interessa niente è la giusta e corretta amministrazione che sia del centro-destra che sia del centro-sinistra. Oggi abbiamo esattamente al 50% una città divisa nelle municipalità di centro-destra e di centro-sinistra. Dovete governare, dovete far funzionare questa città e se non fanno funzionare questa città dovete dire chi non fa funzionare questa città. Quali sono le problematiche? sarete così apprezzati da tutti. Grazie a Armando Coppola presidente della quarta municipalità per il centro-destra così come a Giorgio De Francesco presidente della decima municipalità per il centro-sinistra Maurizio Lezzi nona municipalità centro-destra Francesco Chirico presidente della seconda municipalità centro-sinistra quindi vedete amici degli spettatori un parterre perfettamente equilibrato grazie a Raffaele che hanno tenuto sempre per i suoi suggerimenti ci ritroviamo con la politica nei prossimi giorni e poi mano a mano seguiremo l'andamento delle municipalità grazie ai tecnici e buonasera non c'è abbastanza lavoro in questo paese la mafia dove va dove c'è il potere è una nuova realtà ma da la rima